Ciao amici di VideoGoreSky e benvenuti su Sky News! Volevo ricordarvi che fino al 18 di settembre saranno disponibili dei nuovi giochi in sconto sul Nintendo eShop. In particolare The Legend of Zelda per la Wii U a soltanto 4,99€, Link The Minish Cup. Per il 3DS invece trovate The Link Awakening a 3,99€, Oracle of Season e Oracle of Age. Mi raccomando ricordate che queste promozioni scadono il 18 settembre e come per l'altra volta fatemi sapere se ne approfitterete oppure no. Ciao!